Bene, stiamo facendo il nostro giro nelle scrivanie importanti, l'abbiamo detto più di una volta della nostra regione, in questo caso siamo nella provincia di Ancona, ci occupiamo di Confindustria, Confindustria nella provincia di Ancona e abbiamo con noi Filippo Schittone, siamo dentro il suo ufficio, salve. I miei ossequi come si suol dire, anche i telespettatori ovviamente. Ecco, andiamo subito a bomba perché poi è un appuntamento molto veloce il nostro. Stiamo girando il territorio, qual è la temperatura dell'industria nella provincia di Ancona? Diciamo che non è una bella temperatura, mediamente parlando, mediamente i settori merceologici che sono tipici della nostra provincia, per lo più focalizzata sul mondo della meccanica, in senso lato, ovviamente su altri comparti come sono al mondo del fashion, dell'agroindustria, della chimica, dalla chimica farmaceutica al mondo della raffinazione dei petrolio e quant'altro, non dà segnali di ripresa. Perché c'è chi ragiona sul mercato nazionale e c'è chi ragiona sul mercato globale. Certamente sì. Chi ragiona sul mercato locale credo stia vivendo la complessità del momento con grande preoccupazione perché il mercato locale è pressoché stanziale, fermo. Chi in questi anni ha avuto la possibilità, la visione, la capacità di investire in riorganizzazione e quindi ricerca di maggiore efficienza. Chi ha avuto la capacità anche di ripensare un po' le strategie di mercato, quindi come spesso qualcuno mi sente dire ha preso atto che al di là della foresta c'è un mondo che cammina, allora qui abbiamo situazioni positive, felici. In termini percentuali quanto sono stati bravi gli imprenditori marchigiani a prepararsi per tempo? Non ho un dato statistico esatto. Non vorrei usare numeri che possano generare anche confusione. Mi sento di dire che almeno un 30% di imprenditori che sono con piena consapevolezza sull'onda col proprio surf, come si suol dire, ci sono. È poco però. È poco per dare quella scossa positiva anche in termini psicologici a un territorio che ha vissuto un lungo periodo di espansione, di dinamiche di crescita, che ha abituato anche la nostra popolazione a pensare che tutto sarebbe sempre andato bene, ci sarebbe sempre stato lavoro per tutti, benessere diffuso. Oggi stiamo tutti ragionando su come salvaguardare il benessere acquisito, limitare i danni e riposizionarci. C'è un'immagine che mi piace molto, che ho sentito tempo fa da un collega giornalista. Diceva che l'Italia imprenditoriale va forte, il problema è che delle volte compete con chi non ha il peso invece come si porta l'Italia. Nel senso, se dovessimo guardare questi due paesi, Germania e Italia, sono due atleti, però l'Italiano corre con uno zaino di 50 kg, 60 kg sulle spalle. Secondo lei qual è lo zaino? Quali sono i pesi? È molto più pesante il nostro zaino. Sì, come lei sa noi abbiamo fatto recentemente l'assemblea pubblica degli associati, abbiamo portato alcuni numeri, io ne cito uno su tutti, i cittadini dell'Italiano investe all'anno 285 ore per pagare le proprie tasse, in Inghilterra 110 ore. La metà, quindi il problema è lo Stato, mi dice. Lo Stato, l'organizzazione paese sicuramente pesa molto, credo che oltre a questo ci sia un tema anche di riforma reputazionale di questo paese, in questo momento le nostre aziende, paladine del Made in Italy, comunque sia non possono non pagare così. La storia di un paese che fatica a dare un'immagine di sé forte, noi siamo un paese che difficilmente… Passiamo per furbi insomma. Non tanto per furbi, diciamo che probabilmente non diamo la sensazione di essere una popolazione, quindi ci metto dentro tutti, in grado di fare pianificazioni di medio e lungo termine e di rispettarle, basta vedere molto spesso l'efficacia e la durata delle nostre normative che di anno in anno dicono tutto e il contrario di tutto. Concludendo, perché è molto veloce questo incontro, cosa possiamo dire? I nostri ascoltatori, cosa c'è dietro l'angolo? Questa è una domanda di Costanziana Memoria. È una domanda di Costanziana Memoria, non mi ricordo cosa rispondesse Costanzo, devo dire, ero un ragazzino, lo seguivo, ero un Costanzo giovane e ancora ardimentoso in quello che faceva. La mia percezione è che siamo ben ancora lontani dall'uscita della crisi, non ho segnali di inversione di tendenza così diffusi da poter dire bastano 6-8 mesi. Oggi effettivamente non c'è grasso che cola, forse non c'è neanche più il grasso e di questo tutti ne dobbiamo tener conto. Quindi dobbiamo tenere conto che per essere proprio realisti, più del re, come si dice, almeno 3 o 4 anni di questa situazione. Non so se tra 4 anni, ma sicuramente 24 mesi ci sono tutti, che vorrebbe dire arrivare al 2014. Sono due anni in cui credo che tutti devono rinunciare alle proprie posizioni ferme, ai privilegi anche, questo è un tema sociale all'ordine del giorno, soprattutto in questo periodo quando parliamo di politica, i numeri dimostrano. Dall'osservatorio che noi abbiamo, vediamo che nelle aziende tutti fanno sacrifici, i lavoratori, gli imprenditori e le aziende nella loro complessità, allora ci aspetteremo lo stesso senso di responsabilità e di realismo soprattutto da parte di chi ha la responsabilità della cosiddetta Repubblica, che poi non dimentichiamoci che è nostra in quanto cittadini, al di là delle singole opinioni, delle singole posizioni e visioni di vita che possiamo avere.